The Coraline, The Coraline, The Coraline, ma ragazzi io non ne posso più, cioè io mi rendo veramente conto che la musica è femmina stasera, è una roba incredibile. Allora, tre donne, tre donne. Di dove siete? Roma. Di Roma, The Coraline. The Coraline, sì. Cantate in? Questa sera facciamo due pezzi in inglese, però abbiamo cominciato a scrivere anche in italiano perché comunque scriviamo testi e è venuta successivamente la cosa di scrivere in italiano, però sta avvenendo. Ma tu fra l'altro, io lo dico sempre, suoni lo strumento più sensuale che esista. Grazie, speriamo di rendere. Speriamo di rendere. Come si chiamano? Tu ti chiami? Rebecca. Salomè e Lettra. Scusa? Salomè e Lettra. Cioè, Rebecca e Salomè venite fuori dalla Bibbia voi come nomi, i vostri... No, per casualità. Cioè, mi sembra Rebecca, cioè capito? Vabbè. Salomè e Lettra. Elettra è il nome della figlia di Guglielmo Marconi perché era il nome dello yacht dove Guglielmo Marconi faceva gli esperimenti. Vorrei anche ricordare che se voi ci state guardando è tutto merito di Guglielmo Marconi, che è stato un grande genio e che non nessuno si ricorda più. Il più grande genio che abbiamo avuto in Italia è stato Guglielmo Marconi. Prima ce n'era un altro che si chiamava Leonardo da Vinci, ma Guglielmo Marconi è più vicino a noi, quindi lo sentiamo. Allora, The Coraline sul palco siete pronte? Yes! The Coraline! Allora, questo pezzo si chiama Underground, approfitto per chiedere leggermente più voce, grazie. Ci siamo immaginate questo mondo, appunto l'Hunterground, dove ognuno di noi combatte la più dura delle battaglie, il confronto con se stesso, perché non c'è niente di più brutto di odiarsi e non accettarsi. E quindi attraverso questo viaggio nell'Underground si comprende il fatto che accettarsi fa star bene, amarsi salva. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie, adesso facciamo un pezzo che è molto diverso però fa parte molto di noi, è un pezzo che parla diciamo che in un mondo di arrivisti al potere e di omologazione sociale si contrappone diciamo il modello di un uomo libero che invece osserva il mondo che ha intorno soprattutto le persone e coglie le esperienze e i bisogni degli altri e che quindi scopre quel tesoro speciale che è il senso della vita, quindi special treasure. Grazie 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 a tutti, grazie a Piat Music, grazie a Roxy Barra, grazie. Venite qua, venite qua, le Coraline. Allora, tanto per cominciare è bellissima questa cosa che scrive Tonya Cestari perché evidentemente la sua nipotina è andata lì e dice Zia, visto che vedea Roxy Barra, non pensavo vedessi anche tu Roxy Barra, ti piacciono le Coraline e poi questa dice riprendile dalla brutta esperienza di X Factor, perché voi, io non lo sapevo, venite qui, perché voi avete fatto X Factor? Sì, quest'anno e siamo stati poi eliminate nella fase di bootcamp. Cos'è di bootcamp? Anche tu? C'è cosa? Anch'io otto anni fa, quindi nella stessa fase, però non ho seguito, voglio capire una cosa, voi vi siete presentate lì e suonavate? Suonavate? Suonavamo e cantavamo, cioè. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni tu che rispondi tu, le altre mettetevi lì perché altrimenti io non posso fare avanti e indietro ping pong da matti. Cioè, la mia domanda era, se voi siete andati lì, suonavate così come avete fatto stasera e vi hanno eliminato. Con quale motivazione? No, abbiamo fatto un pezzo, una cover, cioè era obbligatorio la cover, ci sono stati un po' di problemi, diciamo anche di forma tecnica e non forma tecnica anche, cioè non lo so, ci sono stati dei problemi, hanno detto che era una, perché alla prima fase abbiamo portato un riarrangiamento nostro, abbiamo riarrangiato un pezzo dei corn completamente diverso in acustico, poi ci siamo presentate in elettrico e abbiamo fatto un pezzo toxicity di System of a Down che era più o meno così com'era, ma l'avevamo portato perché ci rappresentava tantissimo il primo pezzo per cui abbiamo deciso di suonare insieme. Non abbiamo suonato troppo bene per motivi tecnici o comunque può capitare un'esibizione zoppa, non hanno voluto crederci, comunque è stata comunque, ci siamo divertite noi. E ci ha dato anche la possibilità tra l'altro perché è un ragazzo che ci ha visto X Factor, ci ha detto andate da Red Ronny, quindi comunque poi è conseguito un bel regalo. Ma comunque è stata una bella esperienza. Cosa? No, che comunque è stata una bella esperienza, cioè nel senso a prescindere da... Sì, ok, vabbè, quindi... Voi state trovando una giustificazione, cioè nel senso voi dite il problema è stato nostro, ok? Cioè nel senso noi, io so che quel pezzo lo sappiamo fare perché altrimenti non l'avremmo mai detto tra i pezzi da fare, però può capitare nel senso, comunque giudicano da un'esibizione, non hanno sentito i nostri... Non si ha tanto tempo per far... e quelli sono treni che passano e devi cercare di... Quindi è importante, è importante intanto che siete arrivate qui. Sì, una bellissima esibizione, a gusto mio ho preferito il primo brano e mi piacciono molto le armonizzazioni che fate. Niente, bravi, 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 bravi. Fa questa persona a lei. Eh vabbè, non mi fai una donna. Per me stanno avanti. Stanno proprio avanti queste ragazze qua. Stanno avanti. Stop. Di là di se piace, piace o non piace, questo è un fatto soggettivo, no? Perché non tutto può piacere. Però loro stanno avanti. Stop. Allora, io rispondo a quello che, siccome ho detto che il basso era sensuale, lo hai suonato in maniera divina. Grazie mille. E niente, complimenti. Sono abbastanza stupito e sono molto preoccupato perché stasera non sappiamo come fare a scegliere i gruppi, ma non sappiamo davvero come fare. Mai come stasera ci troviamo di fronte. Abbiamo avuto dei picchi di qualità a Torino, Bologna, ma mai come stasera ci troviamo di fronte a un dramma che è quello di scegliere chi far venire a Roxy Bar. Farò dei magheggi, ci inventeremo qualcosa. Ma poi ho trovato uno che ha scritto anche una storia di Emanuele Orlandi. E cosa c'entra Emanuele Orlandi? È nostra zia. Nel senso che papà è il fratello di Emanuele Orlandi. E quando siamo andati a X Factor l'hanno riconosciuto. Però non era stato tirato fuori da noi, non per un fatto di... non lo diciamo. Semplicemente noi ci siamo presentati lì con la nostra famiglia. Abbiamo fatto il nostro percorso. In che senso, vostro per base? Voi siete sorelle, no? Sì. Ah, scusa. Noi siamo tre sorelle. Ma siete tre sorelle? Pure. Pazzesca sta cosa. Sì, questo lo sapevo. Sono tre sorelle. Eh, come? Di solito ci scambiano pure per gemelle. Tu non ti hai accorto di niente. Io non mi accorgo mai di niente. Devi sapere che io non guardo tv, non... Sono in un mondo che... Sono in un mondo che vede, che incontra, curioso. E la curiosità oggi purtroppo non appartiene alla tv. Se vuoi essere curioso non devi guardare la tv. Devi andare, dai, devi... Vedi, adesso l'ho scoperto. Complimenti alle Coraline. De Coraline. Ciao. Grazie. 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 Grazie.